Ciao a tutti e benvenuti all'Isola di Carta. Oggi volevo fare un focus sul Drago Nero che è un personaggio fantasy della Bonelli che io amo tantissimo. Allora Drago Nero nasce l'11 giugno del 2013, è un fantasy e gli autori sono Luca Enoch e Stefano Vietti. Le copertine e i disegni sono di Giuseppe Matteoni. Allora iniziamo dicendo che questo è il primo elemento che dovete avere, cioè il romanzo uscito nel 2007 che ci dà un po' la genesi di tutta questa vicenda, di tutto questo fantasy che è ambientato nelle Rondar. Le Rondar è il paese fantasy, la zona geografica dove avvengono queste avventure. I personaggi principali sono Ian Aranil, Mirv Aranil che è la sorella di Ian, Selva di Fonda Scura e Gmor che è un orco e Alban il mago. Questi sono i personaggi principali. Allora si chiama Drago Nero perché lui, il personaggio principale Ian, durante una missione uccide un drago che aveva un incantesimo e da quel momento la spada viene bagnata dal sangue e lui ha dei poteri davvero eccezionali. Per riuscire a comprendere bene l'universo di Drago Nero bisogna conoscere fondamentalmente le razze che popolano questo mondo. Le principali sono per esempio gli Algenti che è uno dei popoli più temuti da parte dell'impero e che popola l'antica terra dei draghi. Gli Algenti formano un'unica immensa orda nomade con un livello di civilizzazione che è piuttosto basso. Poi ricordiamo i Tecnocrati che è un ordine fondamentalmente composto da uomini e donne di grande inventiva e di capacità tecniche dediti soprattutto alla tecnologia. Quindi abbiamo i luresindi. I luresindi invece sono un ordine derivato appunto da un'antica confraternità e composta fondamentalmente da coloro che sono dediti alla magia. Quindi luresindi, i Tecnocrati e poi ci sono gli Elfi. Gli Elfi sono invece coloro che vivono della natura o soprattutto a protezione della natura. Altri importanti elementi delle Rondar o perlomeno altre razze importanti sono gli Orchi, come vi dicevo uno di questi Egmor, i Giganti che è una razza minore che popola le Rondar. Le Rondar, come dicevo prima, è la zona dove accade tutto questo. Poi ci sono i Troll che sono delle creature solitari e sono esseri antichi e particolarmente bestiali. E infine gli Algenti. Ecco gli Algenti sono molto pericolosi perché sono bianchi, sono inquietanti, sono silenziosi e guidati apparentemente da un unicamente. Questi Algenti popolano l'antica terra dei draghi a nord-ovest delle Rondar dove c'è il grande vallo che divide appunto le Rondar dalla terra dei draghi e quindi dalla popolazione dei Algenti. Sono degli avversari molto temibili. E poi abbiamo gli Abomini. Gli Abomini sono delle terribili creature demoniache che in passato hanno cercato di soggiogare il mondo delle Rondar ma non ci sono riusciti. Vivono anche loro nelle nelle tombe dei draghi quindi al di là del vallo del grande vallo e poi insomma parleremo più diffusamente di queste razze. Dicevo che è una cosa molto importante che dovete fare sono recuperare come dicevo prima prima di tutti questo perché da qui inizia tutto e si comincia a capire il mondo di Drago Nero. Poi i primi numeri allora ricordiamo fondamentalmente i primi quattro numeri in cui c'è la genesi appunto del personaggio vi faccio vedere queste copertine spettacolari il sangue del drago il numero uno il numero due il segreto degli degli alchimisti il numero tre la fortezza oscura e il numero quattro gli impuri. ecco poi altri numeri che sono importanti sicuramente appunto abbiamo il numero ecco questi due numeri sono molto importanti cioè il 10 e l'11 adesso ve li metto bene allora la regina degli agenti questo e le fosse di Farg il numero 10 questo e numero 11 ecco questi due numeri sono importanti perché si rifanno al romanzo che vi ho fatto vedere prima e che in cui appunto ritroveremo poi un personaggio molto importante o collegati a questi c'è lo speciale vediamo se lo trovo numero uno lo speciale numero uno in cui viene narrata la missione da coco le prime missioni tra ian e gmor questo è molto importante non sono da allora gli speciali sono tutti in tutti ne sono usciti 9 però io vi consiglio fondamentalmente questo perché questo appunto in questo si parla di questa primissima loro missione poi è il numero 15 e il 16 è molto interessante perché si comincia a conoscere aufer e l'imperatore allora il numero 15 è intitolato intrighi a corte faccio vedere le spettacolari copertine di matteoni e il numero 16 discesa nell'inframondo molto molto interessante poi oltre a questi altri numeri importanti abbiamo il 30 e il 31 eccoli qua in cui il 30 è intitolato il contagio e il 31 è intitolato l'agonia di iastrad qui c'è la cittadina presentata la cittadina di iastrad con un morbo che fa andare fuori di testa le persone numero 30 e numero 30 poi abbiamo numero interessantissimo il numero 39 qui scopriremo intitolato tagliatrice crudele il riferimento è alla spada di dragonero quindi a tagliatrice crudele la spada imbevuta del sangue del drago e che praticamente concede a Ian dei poteri straordinari quindi numero molto importante e poi abbiamo il numero 46 eccolo qua nel cuore dell'impero anche questo numero fondamentale ecco dovete sapere che poi c'è ci sarà la saga delle regine nere che è una serie una saga di parecchi numeri adesso vi faccio vedere in cui verrà stravolto tutto tutto l'impero e ci abbiamo il numero 54 in preparazione a questa saga uccisore uccisori di draghi il numero 55 il risveglio del rinnegato questi due numeri serviranno per farvi capire la saga delle regine nere saga delle regine nere che inizia adesso ve la faccio vedere che inizierà praticamente con il numero 56 e che terminerà con il numero 64 solo faccio vedere in successione allora dal 56 intitolata le regine nere e da qui cambierà tutto l'universo di drago nero poi c'è questo numero 56 57 scusatemi intitolato prigioniero quindi abbiamo il 58 l'ora più buia tutta questa serie delle saghe della saga delle regine nere cambierà io ho anche la versione variant la faccio vedere dell'ora più buia cambierà tutto l'universo delle rondare fino al numero 77 in cui poi inizierà i ribelli e un'altra storia sono poi della cena ecco questo è il numero il paese di non ritorno è il numero 59 poi abbiamo il 60 all'arte della guerra guardate che copertina tra l'altro oltre le tempeste è il numero 61 guardate che meraviglia queste copertine di matteoni poi abbiamo il giorno degli eroi e il numero 62 il numero 63 ceneri di un impero il numero 64 una nuova alba ecco bellissimo quindi da qui cambierà tutto l'universo di drago nero addirittura con morte di un eroe è il numero 77 ma recuperate anche il 76 in cui si svilupperà intitolato la dama delle lacrime ecco qui si svilupperà nel numero 76 77 il morbo delle come dicevo prima il morbo delle lacrime che stravolgerà tutto l'intero da questo da questi ultimi due numeri non sarà più niente come prima niente sarà prima e noi avremo il faccio della copertina numero uno di drago nero il ribelle in cui cambierà praticamente tutto l'universo delle rondar adesso non non vi aggiungo di più perché è molto molto difficile non fare spoiler quindi diciamo che c'è una prima serie dall'1 al 77 come vi ho fatto vedere prima e poi ricomincia una numerazione dopo il numero 77 si ricomincia con il numero 1 e ricomincia un diciamo un ciclo diverso di drago nero bene io vi ringrazio per mi ascoltato vi saluto dall'isola di carta ciao a tutti ciao da massimo